I carabinieri della stazione di Casabona hanno tratto in arresto un settantenne di Roccadinetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli operanti durante mirato servizio per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno sottoposto il predetto a perquisizione domiciliare, rimanendo in un appezzamento di terreno di pertinenza della sua abitazione a Roccadinetto 1,8 kg di marijuana. Nel medesimo contesto operativo, all'interno di una porcilaia, sono state rinvenute 20 testugini della specie testudo Herman, specie protetta a rischio di estinzione, le quali successivamente sono state affidate all'ente competente. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida.